È una situazione drammatica, una situazione di lavoro in condizioni di povertà e questo viene fatto per lo Stato. È davvero preoccupante che ci siano centinaia e centinaia di lavoratori che tutti i pomeriggi entrano nelle scuole della nostra regione e puiscono, svolgono un servizio fondamentale per garantire un diritto sancito dalla Costituzione che è quello all'istruzione. Ma il lavoro non gli viene riconosciuto. Hanno buste paga da 50 euro, delle condizioni salariali che sono al di sotto della soglia di povertà. Eppure questi uomini e donne, ma soprattutto donne, l'80% di questi lavoratori di sesso femminile, lavorano tutti i giorni all'interno delle nostre scuole. Aspettano da 20 anni una stabilizzazione. Quello delle pulizie delle scuole è un servizio che deve essere internalizzato, che deve diventare a tutti gli effetti un servizio pubblico. Questi lavoratori per 20 anni sono stati presi in giro dalla politica che ha promesso loro una stabilizzazione e per 20 anni invece lavorano in modo precario all'interno delle scuole pubbliche. Tutto questo, diciamo così, andando a riempire le tasche delle cooperative che hanno preso questo servizio in apparto. Ebbene, noi crediamo che dopo 20 anni vada posta fine a questa situazione e oggi presentiamo un emendamento che vorremmo fosse approvato in Commissione Cultura di Camera e Senato, un emendamento alla legge di stabilità che miri appunto alla definitiva stabilizzazione di queste migliaia di lavoratori distribuiti in tutto il Paese. Un esempio importante, solo qualche mese fa i lavoratori ex LSU, ex lavoratori socialmente utili siciliani sono stati stabilizzati con un decreto appunto del MIUR. Noi crediamo che come i loro colleghi siciliani anche i lavoratori delle scuole che si occupano delle pulizie in tutta Italia debbano essere stabilizzati. Noi oggi ci aspettiamo che ci sia una importante presa di posizione da parte dei parlamentari abruzzesi. I loro colleghi appunto siedono nelle Commissioni di Camera e Senato, nelle Commissioni Cultura e ci aspettiamo un impegno dei parlamentari per far sì che questo emendamento venga approvato. Ci aspettiamo che con la chiusura di questa legislatura almeno i lavoratori che si occupano di pulizia delle scuole possano sperare in un futuro di stabilità e sicuramente migliore di quello che vivono oggi.